Per lei non potevamo che parlare di iodio, ne abbiamo accennato già prima, vediamo anche l'importanza e il ruolo del sale iodato, poi le faccio una domanda un po' forse difficile, perché in Italia c'è così poca aderenza al consumo di sale iodato, mentre in altri paesi d'Europa sono molto più avanti di noi. Certo, l'Italia è una zona a carenza di iodio moderata, non gravissima come probabilmente lo era l'Italia stessa nei secoli passati, in cui il gozzo era una piaga della società, soprattutto nelle regioni montane, ma non solo, ed è dovuta essenzialmente al fatto che le regioni montane hanno un patrimonio nel suolo di iodio estremamente basso, quindi la miglior fonte di iodio in Italia, oggi come oggi, è il consumo di pesce in maniera più possibile regolare. È chiaro che però questo si scontra un po' con la scarsa abitudine degli italiani a mangiare pesce, che nella migliore dell'ipotesi lo mangiano una volta alla settimana, generalmente il venerdì. Quindi, visto che non si consuma almeno due o tre volte alla settimana pesce, bisogna integrarlo con altre fonti. Una fonte discreta potrebbero essere anche il latte, per esempio, o anche alcuni alimenti derivati dalla coltivazione, però in quel caso la quantità di iodio che assumiamo è difficilmente quantificabile. Per un motivo molto semplice, la quantità di iodio che c'è nel suolo è estremamente variabile, quindi bisognerebbe sapere se gli alimenti con il foraggio con cui è nutrito il bestiame è adeguatamente ricco di iodio, quindi questo non è possibile saperlo. In questo ci viene in aiuto ovviamente la iodoprofilassi con il sale iodato. Gli ultimi recenti studi, le ultime recenti indagini epidemiologiche dell'Istituto Superiore di Sanità, mostrano che l'Italia, in sei regioni su nove studiate, persiste una carenza di iodio, che è ancora più grave in quasi tutte le donne in gravidanza studiate. Quindi diciamo che la iodocarenza è ancora un problema da raggiungere, il cui obiettivo della scomparsa è ancora lontano dall'essere raggiunto. Esiste una legge che permette, che fa sì che in tutta la grande distribuzione nei negozi siano presenti di fianco alle confezioni del sale normale, anche quelle del sale iodato, però questo ancora non ha portato ad un consumo di sale iodato sufficiente. Parliamo del 50% di vendita di sale iodato rispetto a sale totale nella grande distribuzione, percentuale ancora molto più bassa invece, abbiamo nell'ordine del 20-25%, se andiamo a guardare la ristorazione collettiva. E quindi questo è il motivo per cui ancora di fatto in Italia una iodoprofilassi degna di questo nome, quindi pienamente efficace, non è stata raggiunta.